Ci siamo? Iori Dinka. Alfredo è chiusa la votazione. La Camera respinge. Undici centemero. Parere contrario del Governo è aperta la votazione. Colleghi, state al posto perché quelle poche votazioni che mancano cerchiamo di farle in fila. Greco, Dinka, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Dodici malpezzi accolto con una riformulazione, va bene. Tredici favorevoli, quattordici favorevoli. Rostellato con riformulazione, va bene, sì. Rocchi con riformulazione, va bene, onorevole, sì. Carocci favorevole, ok. Cimbro è stato ritirato. Matarrelli favorevole, Baldassare favorevole. Segoni, va bene la riformulazione, sì. Turco va bene la riformulazione, sì. Artini con riformulazione, va bene, sì. Becchis è favorevole. Onorevole Brignone è contrario, vuole intervenire. Prego, onorevole Brignone. Grazie, Presidente. Con questo ordine del giorno chiedevo semplicemente per il fatto che questo provvedimento prevede una corrisponsione di un contributo per le paritarie, in base alle alunni con disabilità frequentanti, che un analogo contributo potesse essere previsto anche per le scuole statali. Prendo atto del parere contrario del Governo, ma chiedo all'Aula di rimetterlo al voto. Grazie. Siamo in votazione l'ordine del giorno 25 Brignone. Parere contrario, aperta la votazione. Ci siamo. Grazie. Grazie.